Accompagnati da mamma e papà, in 50 hanno risposto all'appello dell'ITS Academy e si sono recati a Palazzo degli Studi a Lanciano per conoscere più da vicino l'offerta formativa. Ragazze e ragazzi, provenienti per lo più da tutte le province abruzzesi e dal Molise, si sono dimostrati interessati a conoscere i profili professionali e le modalità di accesso ai corsi ITS con iscrizioni aperte fino al 30 settembre. L'interesse verso i profili tecnici nell'ambito della meccatronica, automazione e informatica è in forte crescita, sottolinea il direttore Antonio Maffei. Nel corso dell'Open Day, gli aspiranti allievi hanno partecipato alla presentazione dell'offerta formativa modulata in sei corsi per circa 150 posti disponibili, che vedranno quest'anno l'apertura anche di nuove sedi. Oltre Lanciano, sede storica per la meccatronica e chieti informatica, sono state aperte sedi anche a Teramo e ad Avezzano dedicati alla meccatronica e automazione negli istituti Alessandrini Marino di Teramo e Majorana nel capoluogo della Marsica. I corsi ITS offrono un percorso duale di formazione in aula e in fabbrica, proprio come richiesto da grandi e piccole aziende abruzzesi dei diversi settori produttivi attraverso la collaborazione con Confindustria. I giovani tecnici andranno a sostituire i prossimi pensionamenti e saranno tecnologicamente più aggiornati rispetto al personale in uscita dalle aziende. Durante l'Open Day, gli aspiranti corsisti hanno potuto simulare il test d'ingresso e sperimentare un colloquio motivazionale con il personale docente e aziendale, oltre ad approfondire gli aspetti didattici e le procedure di iscrizione. Gli ITS fanno formazione totalmente gratuita, sostenuta dal pubblico e dalle aziende partner.